E ciao a tutti ragazzi sono appunto elettro16 perchè appunto io chi devo essere se io non sono elettro16 chi devo essere scrivetemelo nei commenti intanto il mondo sta laggando tantissimo va bene così Cazzo spazio va bene va bene e raga oggi siamo in un nuovo video di da java con una qualità cioè allora intanto ho sistemato uno nei commenti Mi aveva suggerito di mettere un sovrappoggio per il telefono che poi manco era un telefono era un tablet purtroppo non si vede la barra questa qua questa barra degli oggetti non si potrà vedere e mi dispiace è finciato lo so che molti saranno molto tristi perché va bene raga ci sarà questa barra va bene Allora come avrete benissimo detto dal titolo in questo video vi andrò a fare una specie di wiki questo video mi sa che lo dividerò in più parti perché un unico video penso che non ce la farò però va bene E vi andrò a illustrare un po' tutti gli SCP che ci sono appunto nella SCP lockdown I... le numerazioni saranno appunto randomiche che cazzo... ah ok Raga dovremmo andare in base ai documenti dal primo il primo che andremo... cioè li vedremmo un po' tutti vedremmo i primi che sono da questo e poi così via E mi sa che in un unico video manco ce la facciamo quindi raga intanto vi consiglio di supportare con un bellissimo like così facciamo andare avanti questa serie E niente ragazzi ci vediamo con il video ciao Il primo SCP che andiamo a visionare è l'SCP 573 ovvero... questo qua l'SCP 573 di classe Euclid Vediamo un po' 573 eh Ecco qua questo è il documento Che il suo token si crafta in questo modo qui quindi col blocco sonoro con le rodi toltail che si ottengono uccidendo i topi E il giradischi e questi blocchi E il token appunto lo possiamo usare come i vari token Nulla In sostanza questo SCP è abbastanza utile La sua cella è molto complicata da entrare perché appunto per entrare dovete aprire questa... utilizzare questa... Aspettate un attimo Se faccio così Ok Allora stavo dicendo che in sostanza questo SCP è abbastanza utile perché appunto vabbè la sua cella tutta rinforzata con un po' di oggetti abbastanza utili Qua c'è non si nota ma sono dei blank document si buggano Qua si notano non lo so per cosa mi sa che la luminositiva... vabbè non si vedono però ci sono qua c'è la... Ok ripariamo L'SCP 573 appunto nella mod è abbastanza utile perché vi consente di attrarre gli animali Questo in sostanza questo è l'SCP non si nota Questo qui non so se si vede Lo metto qua lo vedete questo è l'SCP Se noi ci clicchiamo col tasto destro farà un suono non si sente e ci darà Aspettate un attimo che mo' vi dico il numero esatto Almeno 10 secondi di lentezza ma è particolare perché se noi prendiamo tipo le pecore La pecore ecco E poi c'è occhiali 3d va bene Se noi prendiamo che ne so una pecora E noi clicchiamo col tasto destro No aspetta Questa ci seguirà Stessa cosa accade con tutti gli altri mob Come ad esempio i maiali le mucche eccetera eccetera Passiamo avanti con SCP 997 di classe anche lui safe Abbiamo sbloccato la sua conoscenza Il suo crafting è questo Un po' complicato per i lingotti d'oro e questo qua sempre lo little tail Perché appunto SCP 997 è abbastanza utile Ma comunque allo stesso tempo è inutile Qua c'è della carta non si vedrà dal video comunque Perché raga è abbastanza inutile Torcia elettrica Carta va bene SCP 997 è utile ma allo stesso tempo è inutile Perché quando noi entriamo nella sua cella troveremo dei ratti Questi non li ho messi io spawnavano già con la struttura Ma la particolarità allora intanto questo è l'SCP Vermin suppressor 997 Cosa dovrebbe fare Qua comunque c'è carta Carta, carta, batterie Blank document Vabbè Quello che lui effettivamente fa all'SCP È quello di cancellare barra uccidere I topi Cioè i topi Allora loro intanto scappano Però se io li mettessi qua E io azionassi la leva Avete visto? Loro sono sparetti Però se io vado sopra Loro ci sono ancora Se io riclicco Ci sono Quindi in sostanza Questo SCP Rimuove Ma non rimuove I topi È tipo un disinfestatore Però è abbastanza inutile Come disinfestatore Nel dubbio Se qualcuno lo vuole utilizzare Lo può utilizzare tranquillamente Contro questi topi Comunque questo SCP Se avete bisogno di topi Potreste utilizzarlo Perché ci sono topi nella cella Passiamo avanti Con un SCP Abbastanza conosciuto Il prossimo è SCP 939 Ovvero With many voices E questo è il suo token Si crafta in questo modo qui Abbastanza semplice E abbastanza Comunque conosciuto Questo SCP Perché appunto È Cater E intanto è Cater Ma comunque sia Lui Non è nulla di particolare E sono Dei Possiamo dire Dinosauri Tipo Che appunto Imitano le voci Dei normali Giocatori Ecco Qua c'è uno zombie Non so perché Aspetta Rimu Togliamolo With the telekill Ecco Questo è SCP 939 Questo qua È uno dei tanti E sono Nella loro cella Sono 1, 2, 3, 4, 6 Almeno 7 4 5, 6, 6 Si sono 7 In sostanza Loro sono Aggressivi Loro sono letteralmente Aggressivi Ma in un modo particolare Infatti Loro imitano Le voci Dei normali mob Di minecraft Per attirare Il giocatore Prendiamo ad esempio Un classe D Se noi prendiamo ad esempio Tipo un classe D Lo spawniamo qua Loro Vede Noterete Che loro partiranno Ad attaccare Il classe D Vedete Loro stanno letteralmente Attaccando E uccidendo I classe D Tecnicamente Loro dovrebbero essere Ciechi Non so Perché Non sia così Però va bene Inoltre C'è da dire Che sono Molto forti Infatti Il loro danno Normale Toglie 8 Cuori Che è molto Su minecraft E oltre a ciò Possono essere Trovati Nel facility 1 Cioè Un laboratorio Che si spavano in giro Per il mondo Possono essere Trovati All'interno Del facility 1 Ultimo SCP Per oggi Perché Non penso Che ce la farò Cioè Abbiamo Stiamo Andando Un po Di SCP Ultimo SCP Di oggi Molto conosciuto SCP 1048 Ovvero L'orsetto Costruttore Il suo token Diciamo Che è semplice Diciamo In sostanza Questo SCP Qua Sono Dei pezzi Di carta E' un SCP Abbastanza Vecchiotto Nella mod Come 939 Eccolo qua E Lui E' un Orsetto Che Praticamente Intanto Si dovrebbe Vedere Ecco Ok Dabbè E' morta Una peccola Vabbè E lui E Lui E lui Questo è Il builder Bear SCP 1048 E' un Orsetto Abbastanza Buono Lui E' Buono Diciamo E' Neutrale Non attacca Cioè lui E' innocuo Però attacca Solo se gli dai Un pugno Vi sconsiglio Di farlo Perché fidatevi Fa 4 cuori Di danno Con un colpo E Capitemi E' Tanto Inoltre Questo Infame Spawna Due Versioni Di sé Due Varianti Ogni Tot Time Ovvero 1048A E 1048C Che sono Entrambe Molto Forti Questo qua Ha molta Vita Questo qua Invece Darà Cecità Ogni Tanto Ogni Tanto Non Sempre Seguiranno L'orsetto E Sono Entrambe Molto Aggressivi Tecnicamente Dovrebbero Essere Tre Gli orsetti Però Uno Non è stato Aggiunto Perché I creatori Non volevano L'hanno Messo Rifiutato Nella Mod Intanto Qua c'è Notte Ok E niente Quindi L'SCP 1048B Perché Noi abbiamo Se Dai 1048 Abbiamo Lo A E lo C Ma dov'è Il B Il B Non è stato Aggiunto Perché Per un Semplice Motivo Che il B Era fatto Con La mano Di un neonato Quindi Capiremmo Già tutti Che non C'era Molta Intenzione Nell'aggiungerlo Bene Ragazzi Il video Purtroppo Termina Qui Ma Tranquillito Arriverà Una Un'alternativa Parte Perché Raga Ne abbiamo Ancora Da vedere Noi abbiamo Fatto Fino Fino A qua E ne abbiamo Ancora da vedere I prossimi Abbiamo 9 Killer Dal sonno E altri Che vedremmo Più attentamente La prossima volta Perché oggi Mi sa che Non ce la faccio Per il video Perché se no Poi ci mette 3 anni Per caricarsi Su youtube Quindi nulla Ragazzi Io direi Che per questo Video potrebbe Tranquillamente Essere tutto Lasciate Un bel like Iscrivetevi Sempre se volete Però io ve lo consiglio E niente Dal vostro Castore Eletro 16 E tutto Ditemi anche Se questi video Da Da java Vi piacciono Che Magari Potremmo provare Pensare Di fare Una serie Degli SCP Ma che ne sai Tu Don Gino Che stai guardando Con adesso Sto video Cazzo Che ne sai Tu Don Gino Che possiamo Fare la serie SCP Quindi niente Ragazzi Sempre da me Eletro Se c'è Tutto Ciao